Pensando ad Amazon FBA, se stai cercando di capire come fare per iniziare oppure anche se hai già iniziato a vendere quella che sto per dirti oggi in questo video è una vera bomba una vera bomba, sì, perché oggi hai la possibilità di accedere a uno dei corsi migliori al mondo completamente gratis ok, ok, rallentiamo un attimo perché adesso poi magari senti questa cosa qua dici, sì, sarà una puttanata, saranno i soliti corsettini, quelli che metti da me, c'è il corsettino gratuito e poi dopo chissà vediamo cosa succede no, è stata una sorpresa anche per me ieri mi ha scritto Helium 10, siccome io faccio parte di questo prodotto quindi praticamente sono uno dei loro clienti, ok erano un pochino di giorni che dicevano il primo ottobre ci sarà qualcosa di incredibile, di fantastico bene, ieri ci hanno fatto scoprire cos'era questa cosa incredibile, fantastica per tutti coloro che sono clienti Helium 10 e tra poco ti spiego di che cosa si tratta, che cos'è se sei uno che già vende sicuramente conosci già Helium 10 ma se invece ti stai solo interessando a quello che è il mondo Amazon FBA probabilmente ancora non sai che cosa sia del tutto Helium 10 comunque dicevo, per tutti quelli che sono clienti Helium 10 ci sarà l'accesso gratis, anzi c'è già l'accesso gratis a Freedom Ticket di Kevin King ok fammelo ripetere, Freedom Ticket di Kevin King un corso americano di altissimo livello forse fra i migliori corsi ai quali puoi accedere normalmente venduto al costo di 990 dollari per tutti i clienti Helium 10 è completamente gratuito non è male, comunque non è male ok, diciamo subito il problema principale l'unico problema è in inglese quindi se non sai l'inglese chiaramente non fa per te non ci puoi capire nulla perché queste persone parlano in inglese se invece non hai problemi con l'inglese allora continua a stare qui che andiamo a vedere un attimino quello che devi fare per ottenere questo corso fantastico, incredibile assolutamente, incredibile allora vi faccio vedere subito chi è Kevin King questo è Kevin King come puoi vedere è un ragazzone che ha venduto tanto tanto lui ha iniziato a fare e-commerce praticamente quando l'e-commerce è nato è una persona che se tu cerchi appunto su Google come ho fatto qua Kevin King, Amazon FBA trovi tantissimi risultati che ti vanno a spiegare quanto sia figa questa persona cioè questa persona sa di che cosa sta parlando e il suo corso Freedom Ticket lo puoi trovare qui su freedomticket.com è composto da un training di otto settimane quindi è uno di quei corsi che si sbloccano di settimana in settimana contiene tantissime tantissime informazioni davvero tutto quello che ti serve dalla A alla Z per riuscire a ottenere i tuoi risultati che vuoi raggiungere su Amazon quindi c'è tutto quello che concerne il brand quindi costruire un brand forte riuscire a selezionare quelli che sono dei prodotti di successo come fare per importare questi prodotti chiaramente qui bisogna essere del tutto chiari e limpidi tutta la parte del corso che ti spiega come importare i prodotti non è tutta utile per noi in quanto è un prodotto americano e quindi spiega come importarli in America ma fra parentesi può essere comunque utile sicuramente ci sono delle parti utili perché sono le parti base che comunque rimangono uguali sia se devi importare in America sia se devi importare in Europa e comunque rimane utile per imparare a capire come fare per prendere la merce e portarla in America e quindi di conseguenza cominciare a vendere anche in America che è un mercato veramente veramente enorme poi andiamo avanti ti spiega bene come competere con tutti con gli altri, con i tuoi competitor come vincere la competizione come creare una pagina prodotto che converte bene una pagina prodotto con le giuste keyword con le giuste foto come creare delle foto che convertono insomma essenzialmente puoi andarti a vedere questa pagina di presentazione dove scoprirai tutto, tutto, tutto quello che questo corso ti può dare è un corso che appunto come ti dicevo vedi costa 997 dollari ma se partecipi e diventi un cliente di Helium 10 ce lo hai per 97 dollari al mese che è quello che costa l'abbonamento di Helium 10 ora dirai 97 dollari al mese però sono tantissimi ma cos'è questo Helium 10? te lo faccio vedere subito Helium 10 è questo è una suite di prodotti veramente incredibile essenzialmente è tutto quello che ti serve per poter affrontare il business su Amazon FBA in ogni sua parte dalla scelta del prodotto fino a quando sei completamente operativo stai vendendo e vuoi mantenere il controllo su quello che sono i tuoi prodotti vuoi essere avvertito quando arrivano delle nuove recensioni che siano positive che siano negative per poter agire di conseguenza vuoi essere avvertito in caso di hijacking in caso che quindi qualche competitor venga a rubarti la pagina quindi tutti i servizi che riguardano anche il momento in cui stai già vendendo ma ci sono appunto tutti i servizi prima quindi la ricerca del prodotto la studio di tutti quelli che sono i competitor di andare a capire per quali keyword si posizionano come si posizionano come si sponsorizzano e poi andare a scoprire davvero davvero tanto più in più ci sono tutti i tool che ti servono per andare a costruire il listing quindi andare a prendere tutte le parole chiavi lavorare le parole chiave importanti per quel prodotto lavorarle velocemente senza diventare matto a cercare di capire dunque aspetta questa l'ho già messa quell'altra no è una cosa molto semplice per riuscire nel giro davvero di pochi minuti a creare la tua pagina prodotto di altissimo livello infine cioè infine mi vengono in mente le cose un po' alla volta perché come vedi ci sono davvero tantissimi tantissimi prodotti tantissime possibilità su Alien 10 un'altra possibilità è il follow up con Alien 10 ti dà la possibilità sempre all'interno di questi 97 dollari quindi con 97 dollari hai tutte tutte le cose che ti sto dicendo e anche qualcos'altro che sicuramente mi sto dimenticando quindi hai un follow up dicevo che ti dà la possibilità di contattare in modo completamente automatico i vari clienti dopo che hanno acquistato magari per chiedergli una recensione chiaramente nel modo corretto perché non possiamo andare a dire ehi dammi una recensione ma perché altrimenti Amazon non sarebbe contenta però insomma ringraziandolo per l'acquisto e chiedendo se vuole di lasciare un suo commento completamente onesto al prodotto e questo è molto importante perché sappiamo che con più recensioni abbiamo con più aumentiamo la nostra credibilità con più quindi vendiamo quindi questo tipo di automazione è molto importante ci sono dei tool là fuori che ti chiedono 47 e 47 dollari al mese solo per farti questo unico servizio altri tool che te ne chiedono 97 solo per la ricerca delle parole chiave altri tool che te ne chiedono 60 70 per aiutarti a cercare i prodotti ora se inizi a fare un pochino la somma di tutto quello che dovresti spendere ti accorgerai che i 97 dollari sono veramente niente per avere tutto quello che ti dà questa suite e ora oltre a tutta la suite hai anche l'incredibile corso di Kevin King io penso che non ci sia neanche da pensarci e si debba andare direttamente di corsa ad iscriversi subito a Young Time prima che decidano di toglierla questa offerta incredibile dove ti offrono un corso di altissimo livello essenzialmente gratis quindi se ti interessa iscriviti a Young Time segui il link qui sotto puoi inserire il codice sconto AMOS10 per avere uno sconto del 10% uno sconto del 10% che vale tutti i mesi quindi per ogni mese avrai uno sconto del 10% quindi su 97 dollari sono 9,7 dollari in meno tutti i mesi oppure puoi scegliere lo sconto AMOS50 che ti dà uno sconto del 50% per il primo mese scegli tu quello che preferisci utilizzare però se Amazon FBA ti interessa ti consiglio di agire subito entra subito in azione prima che tolgano questo corso incredibile puoi andare a cercare su internet dappertutto puoi cercare su YouTube cerca Freedom Ticket e cerca di capire se ne vale la pena cerca di capire se è un corso che secondo te possa essere utile ti accorgerai che ne parlano tutti ti accorgerai che è un corso di davvero di altissimo livello ti accorgerai che Kevin King sa quello che dice ha tantissime cose da dire e oggi tu puoi accedervi completamente gratis quindi lo consiglio a chiunque sia interessato al mondo di Amazon anche se hai già cominciato a vendere perché anche se hai già cominciato a vendere come sai la formazione non si ferma mai e quindi magari hai già cominciato a vendere magari se poi hai anche già Helium 10 allora essenzialmente ti bastano proprio due clic per attivare la tua iscrizione a Freedom Ticket quindi mi raccomando Helium 10 inserisci i codici sconto trovi tutto qui sotto in descrizione noi ci vediamo al prossimo video ciao 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 Grazie a tutti.